ore, non in otto ore, ma in quattro ore, e di permettere appunto di abbattere i tempi di collegamento anche con la Sicilia. In quest'ottica il ponte è una delle ipotesi che non può essere esclusa a priori e non può nemmeno però diventare l'ipotesi principale, perché per noi l'ipotesi principale, lo ribadisco onorevole, è quello di connettere l'Italia e il sud Italia al resto del Paese e mi pare che ce ne sia francamente un gran bisogno. Grazie. Ministro, facoltà di replicare il deputato Segoni. Prego onorevole. Grazie. Beh, Ministro, lei nella sua risposta ci ha parlato di tutto, tranne che del ponte. Non ha elencato tempistiche, non ha citato possibili fondi o possibili provvedimenti in cui inserirlo, quindi una risposta evasiva che, però mi sento di dire, quasi ci tranquillizza, perché sembra confermare la nostra teoria che questo ponte non si farà mai e che siamo semplicemente a fare propaganda, propaganda elettorale, probabilmente da riconnettere anche alla vaccinanza del referendum. Sappiamo che il ponte sullo stretto smuove interessi enormi e probabilmente questa è una mancetta elettorale. Chiamare mancetta il ponte è un po' un eufemismo, diciamo. Però siamo convinti che lei sotto sotto la pensa come noi, che questo ponte sullo stretto è tecnicamente azzardato, è economicamente avventato e anche strategicamente infondato, lo ha detto lei. Nel nodo della connessione tra alta velocità e sud c'è prima di affrontare il problema di come arrivare al Reggio Calabria e poi c'è anche il problema di come muoversi in Sicilia, visto che i collegamenti autostradali e ferroviari sono tra i peggiori che abbiamo in Italia. Di conseguenza andare a pensare come attraversare lo stretto è veramente l'ultima cosa a cui andare a pensare e noi ci auguriamo che questo intendimento venga posticipato sin idee e che sia soltanto un ricorrente chiacchiericcio tipico dei politicanti. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2526, dei deputati Rampelli ed altri concernenti intendimenti del Governo in ordine alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Il deputato Totaro ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Ha un minuto, onorevole. Sì, Ministro. Noi abbiamo assistito in questi giorni alle esternazioni davanti a impregiro del Presidente del Consiglio Renzi che ha detto appunto qualcosa di diverso da quello che ha affermato lei oggi in quest'Aula e nei giorni scorsi sui giornali. Cioè ha parlato del ponte sullo stretto come di una cosa importantissima e quindi da realizzare. Ne ha parlato in termini perentori. Quindi poi abbiamo assistito alle sue, in un certo senso, prese di distanza.